amici e lettori del quotidiano online la notte. Oltre 180 persone sono state arrestate dalla polizia in Australia per aver appiccato incendi nel luogo Galles del Sud, mentre proseguono i devastanti roghi nonostante le piogge degli ultimi giorni in alcune aree della regione. E' quanto riferiscono i media locali, precisando che da settembre ad oggi sono andati in fumo oltre 7 milioni di ettari di bosco. Secondo le autorità nella maggior parte dei casi si tratta di incendi provocati da l'uomo. Per saperne di più vi invito a visitare il sito www.lanoteonline.it, vi ricordo la mail di redazione dove potete continuare a scrivermi per commentare e segnalare argomenti di vostro interesse redazione.lanote.gmail.com. Per il momento è tutto, vi auguro un buon proseguimento e grazie come sempre per la vostra attenzione.